ciao a tutti e bentornati in laboratorio io sono ambra e sono un'esperta del colore e lui è il mio cagnolino max e max vogliamo raccontare a tutti cosa è combinato l'altro giorno è entrato in casa con le zampe piene di fango e ha sporcato tutto il muro per fortuna avevo applicato la smacchiabile un prodotto di max meyer che grazie sui speciali additivi non lascia penetrare in profondità le macchie ed è possibile rimuoverle anche dopo 30 minuti con una semplice spugnetta io non aspetterei altro tempo venite con me che vi faccio vedere come applicarla per farlo ci serviranno pennelli rullo guanti teli per coprire pavimento immobilio e naturalmente i nostri prodotti che sono disponibili in questi formati questo prodotto è ideale per tutti i luoghi di passaggio come le scale e gli ingressi oppure per tutti quegli ambienti che si sporcano facilmente come per esempio la cucina ed è proprio lì che andrò ad applicare il mio prodotto ah che bel colore lo sapete che la smacchiabile è colorabile a tintometro è una pittura bianca ma può essere colorata con i colori che più vi piacciono io ho scelto questo azzurro ma la gamma è veramente ampia mentre passo il colore vorrei ricordarvi che anche la smacchiabile è un prodotto privo di formaldeide e certificato a più inoltre ha un'ottima copertura e una finitura opaca eccomi qui pronta per combinare altri disastri insieme a max anzi prima stavo cucinando e ho dimenticato la padella sul fuoco sporcando così tutto il muro di sugo per fortuna avevo applicato la smacchiabile e grazie ad una passata di spugna potrò ripulire il muro anche dopo 30 minuti oltre alle macchie di sugo è possibile pulire anche quelle di fango pennarelli aceto e altro quindi tra i miei disastri e quelli di max posso stare tranquilla sapendo di poter smacchiare i miei muri con facilità se volete saperne di più continuate a seguirci sui nostri canali ciao da me e da max